E con il romanzo a che punto sei? No, no, non scrivo un romanzo, mi dispiace. Sai, invece dovresti. Ah, sì? Perché hai la faccia del depresso, come gli scrittori. Sorpresa! Ma non mangi? Fanno solo menù per metto. Sembra in forma, mi fa piacere. Mi dici cos'è? Ma no! Guarda che orrore! È per tua nonna. Che cosa è successo? È scomparsa. Ma com'è possibile che se ne sia andata così? Non li sorvegliate? Ma questa non è mica una prigione. Prima domanda, sua madre è maggiorenne? Non so più che fare. Hai visto in che stato è? Cazzo, ho ricevuto una cartolina da mia nonna. Bene, ci devi andare, devi fare un'indagine. Scusi, non è che... Si vuole suicidare? E modestamente qui abbiamo il punto ideale per farlo. Si costeggia la scogliera, così si arriva qui, qui si salta e si atterra qua giù. Non ne posso più che gli altri decidano per me. Capisci? A carattere, tua madre. Stai scrivendo un libro? Sì. Di cosa parla? Dimmi. Parla del... del passato. Che vi è davvero Women's� Come accedere, istana sono... Te vi è davvero micro. Ciao! Alloraggiung bel, non èù? edomo? sponge in spaz. Ciao! Ciao! Spodichono! Alloraggiungb�aaare... Grazie.